Le risorse che la legge di bilancio stanzia per il sistema scolastico nazionale sono talmente modeste e così inferiori alle attese che persino il ministro Lorenzo Fioramonti ha sentito il bisogno di sottolineare che la scuola meriterebbe maggiore attenzione. Nella scuola si occupa l'articolo 28 del disegno di legge, riassumibile in poche battute. L'articolo stanzia infatti 30 milioni per incrementare il fondo destinato alla retribuzione di risultato e di posizione dei dirigenti scolastici, 11 milioni per le attività di formazione dei docenti specializzati per l'inclusione, 2 milioni per le iniziative didattiche di innovazione digitale e nulla di più. Molto meglio va invece per l'università e per la ricerca, settori per i quali si stanziano 25 milioni per il 2020 ma 200 per il 2021 e 300 per il 2022. Fra le misure previste c'è anche la creazione della Agenzia Nazionale della Ricerca alla quale sarà assegnato un organico di 34 unità di cui 3 di livello dirigenziale. Il fondo per il diritto allo studio universitario sarà incrementato di 16 milioni di euro. Dei 3 miliardi chiesti a suo tempo dal ministro insomma non c'è traccia ed è per questo che già in molti si chiedono se a questo punto Fioramonti darà seguito a quanto annunciato nelle settimane scorse. Se non ci saranno le risorse necessarie darò le dimissioni, aveva ripetuto più volte il ministro che persino nelle ultime ore nel corso di una intervista ad un quotidiano ha ribadito di essere uomo di parola, lasciando così ad intendere che le dimissioni non sono semplicemente una minaccia. Impietosi intanto i commenti sindacali. La segretaria nazionale di CISL Scuola Maddalena Gissi rileva che ancora una volta al diluvio degli spot non seguono fatti concreti. Il problema delle risorse riguarda anche i contratti pubblici. Con queste cifre, protesta ancora Gissi, il personale della scuola avrebbe mediamente incrementi salariali sotto gli 80 euro mensili. Ma forse la previsione della CISL Scuola pecca persino di ottimismo perché lo stanziamento attuale potrebbe comprendere anche il famoso elemento perequativo riconosciuto agli stipendi più bassi e anche la stessa indennità di vacanza contrattuale. Quando in Parlamento si dovrà discutere la legge daremo battaglia, ha dichiarato un po' a sorpresa Lorenzo Fioramonti che in tal modo si accredita definitivamente come ministro più di lotta che di governo. Ovviamente su questo tema noi continueremo a tenervi informati anche perché proprio in queste ore sta iniziando al Senato il dibattito sulla legge di bilancio, quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Seguiteci, leggeteci e soprattutto scriveteci e mandateci i vostri commenti, ne daremo conto come sempre. Grazie per la visione!